Le consigliere di opposizione, Simona Lattanzi e Marta Viola, hanno inviato un esposto denuncio alla Procura della Repubblica di Teramo, ai carabinieri forestali di Albadriatica e di Teramo, agli assessori ai lavori pubblici e all'ambiente del Comune di Martinsicuro, nonché ai dirigenti di settore e al responsabile del cantiere. La protesta è motivata dal taglio di alberi nell'ambito dei lavori per la sistemazione del lungomare nord di Martinsicuro. Le due consigliere esprimono la loro preoccupazione per l'eliminazione di 11 tamerici, 14 ailanti e 17 pioppi bianchi nel tratto che va dalla semirotonda Las Palmas a Via delle Lampare. Questo intervento, affermano, è avvenuto in palese contrasto delle normative e leggi che tutelano la biodiversità e il verde pubblico. Viola e Lattanzi aggiungono che complessivamente sono stati abbattuti 42 alberi, un atto che va contro il piano regionale paesaggistico, il decreto legislativo 42 2004, l'articolo 9 della Costituzione italiana, l'articolo 1 dello Statuto Comunale e la legge 10 2013, che istituisce la Festa Nazionale degli Alberi il 21 novembre. Quest'ultima legge impone ai comuni di proteggere gli alberi esistenti e di piantare nuovi alberi autoctoni per garantire la produzione di ossigeno, la depurazione dell'aria e il contenimento dell'effetto serra. Le consigliere sottolineano che, ad eccezione di alcuni ailanti in sofferenza, gli alberi abbattuti erano in buona salute e il comune aveva l'obbligo di preservarli. Attualmente il focus si sposta sugli alberi rimasti lungo il tranto del lungomare, da Via delle Lampare alla Rotonda del Tronto, compresi 7 pioppi, 8 pioppi bianchi, 11 tamerici e un ailanto, tutti in buona salute. Le due consigliere hanno richiesto tramite PEC la copia della perizia agronomica e del nulla osta della sovrintendenza ai beni ambientali, documenti che sono in attesa di ricevere. Concludono la loro lettera diffidando le autorità competenti dal procedere con ulteriori abbattimenti degli alberi rimasti lungo il lungomare nord, invocando il rispetto delle normative vigenti a tutela dell'ambiente e del patrimonio arboreo della comunità.